Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Campobasso, in Molise, alla cattedrale della città. Allora, è quasi mezzogiorno e suonerà l'Angelus che, stranamente e inspiegabilmente, è uguale all'Angelus festivo. L'Angelus feriale è uguale a quello festivo, ovvero la distesa completa di tutte le campane. Voi non potete immaginare che felicità possa avere a venire a Campobasso di giorno feriale e sentirmi tutte le campane a distesa. Benissimo, guardate anche il tetto che è fantastico, il tetto del campanile con questi colori. Qua comunque abbiamo quattro campane più due campane fisse, penso suonino le ore o non lo so, magari le fanno suonare insieme alle altre, a rintocchi per le messe solenni. E appunto, adesso andrò a riprendere l'Angelus. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.